L'ho fatto per portare avanti il progetto che io e Ernesto da almeno due anni avevamo messo in campo, che è quello di restituire alla mia città la centralità. Alla fine Ernesto Magorno ha ceduto alle lusinghe della candidatura a sindaco nella città di Diamante e qualche ora prima della consegna delle liste ha ufficializzato le voci che si rincorrevano ormai da tempo. Sfiderà l'avversario Marcello Pascale a capo della lista Uniti per te, un nome che testimonia l'impronta lasciata da Ernesto Caselli, candidato a sindaco della compagine magorniana prima che un malore gli stroncasse la vita a una settimana dal voto. L'esponente del Partito Democratico parla di una decisione ponderata e sofferta, maturata soltanto nelle ultime ore. L'ho fatto consapevole che sarà un sacrificio enorme anche nella gestione della mia vita privata, ma quando si sceglie di servire le istituzioni si mette in conto anche di dover fare dei grandi sacrifici. E quello di scendere in campo è un grande sacrificio ed è un atto d'amore verso la mia città, verso i cittadini di Diamante, ma è soprattutto il voler raccogliere il testimone che ha lasciato Ernesto. Due settimane fa, infatti, l'ex segretario regionale del PD aveva tenuto un comizio per avanzare la candidatura a consigliere comunale. Ma sin da subito si era intuito che il desiderio del senatore era quello di tornare a ricoprire il ruolo che quasi 15 anni fa l'ha lanciato verso l'Olimpo della politica nazionale. Francesca Lagatta per la CINUS24